Siamo in via Garibaldi, in questo momento ci stiamo appunto avvicinando la parte più bassa e fra poco dovremmo vedere anche Corso Italia, incontriamo soltanto due cittadini quindi insomma sembra davvero che le regole vengano rispettate Piazza Guido Monaco, vedo transitare in questo momento un unico autobus, il primo e unico che abbiamo incontrato nel nostro giro ovviamente già la vista di una piazza Guido Monaco centralissima di Arezzo completamente vuota ecco insomma già lascia abbastanza senza parole, ovviamente molto triste da una parte ma fa piacere insomma che le regole vengano rispettate se c'è un cittadino ora, non abbiamo fatto un tempo a farvelo vedere, che attende l'autobus con la mascherina ecco stiamo girando verso i portici di via Roma questa è indubbiamente insomma la parte più centrale e vedete che è completamente vuoto adesso io giro a sinistra per imboccare proprio Corso Italia e vediamo che cosa succede ecco qua, non c'è proprio niente, completamente deserta ovviamente le luci dei negozi sono accese, sì tutto chiuso però insomma Arezzo è davvero completamente deserta questa è la parte assolutamente che di solito viene maggiormente frequentata anche nelle domeniche insomma dagli aretini e vedete che insomma assolutamente non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno